Innanzitutto grazie per aver preso parte a questa serie di tutorials su Studio One Prime Artist e Pro. In questo corso verrai guidato passo passo verso la realizzazione di un progetto Song che sia in grado di aiutarti nell'apprendimento della piattaforma Studio One e ti dia gli strumenti più adatti alla realizzazione dei tuoi progetti musicali futuri. Sono Yuri Gianluca Ricotti, sound engineer di professione, con all'attivo più di 300 album registrati, prodotti, missati e masterizzati. Ho creato questo corso in collaborazione con Presonus USA e Midi Music Italia. Il corso si sviluppa lungo le lezioni condivise tra il corso Prime Artist e il corso Pro per poi espandersi verso le lezioni riguardanti esclusivamente le features disponibili nella versione Pro di Studio One. Affronteremo insieme tantissimi argomenti Basic e Pro. Ti guiderò nel setup audio della Do e delle schede audio. Importeremo ed esporteremo tracce audio, loops, l'uso degli edit tools, il recording degli strumenti e della voce attraverso l'uso di microfoni dinamici e a condensatore, attraverso l'ingresso di AI come chitarre, bassi, synth, hardware e multitrack recording di strumenti complessi come la batteria ma anche l'orchestra e il live in generale. Ti darò alcune nozioni di fisica acustica e ti guiderò nell'apprendimento delle tecniche di recording, mixing e mastering con Studio One Pro. Studio One rappresenta la nuova frontiera dell'hard disk recording, una Do moderna ed intuitiva che racchiude tutte le maggiori features che ritroviamo già nelle altre Do, con l'aggiunta di nuove tecnologie proprietarie che la rendono unica, più veloce, più performante e più avanzata dei suoi concorrenti. Non a caso è stata votata la miglior Do del 2018 da Computer Music. Prima di addentrarci nell'esplorazione delle sue caratteristiche, ricordiamo che Studio One viene fornito in tre diverse configurazioni. La prima, Studio One Prime, studiata e pensata per chi inizia nel mondo delle produzioni audio home, è completamente gratuita e può essere scaricata liberamente dal sito di presonus.com, dopo essersi registrati. Una versione chiamata Artist viene invece regalata normalmente in bundle con le schede audio e i mixer presonus. A differenza della versione Prime, consente l'uso di alcuni plugin esterni e possiede caratteristiche e opzioni in grado di farci lavorare professionalmente per la realizzazione dei nostri demos e produzioni casalinghe. La terza versione Pro è pensata e sviluppata per consentire agli utenti professionali di disporre delle tecnologie più avanzate e potenti attualmente sul mercato. La versione Pro, inoltre, possiede una vastissima libreria di plugin e suoni pronti per poter essere utilizzati nelle produzioni audio e video, oltre ad un'architettura aperta verso tutte le tipologie di plugin sviluppate da terze parti e con una suite mastering dedicata. Vedremo in questo primo corso come imparare ad utilizzare Studio One Prime per la realizzazione delle nostre produzioni audio. Al termine del corso saremo in grado di padroneggiare la piattaforma Studio One e finalizzare i nostri brani per poterli poi inserire e distribuire digitalmente online. Scopriremo le tecniche più famose di recording, mixing e mastering che ho appreso ed utilizzato nel corso degli anni. Configureremo al meglio il nostro computer e la nostra scheda audio. Impareremo ad utilizzare gli strumenti MIDI, le tastiere e i controller esterni. Siamo pronti? Benvenuti nel primo corso italiano ufficiale di Studio One. Grazie a tutti. Grazie a tutti.